Martedì 16 gennaio, ben ritrovati, buongiorno a tutti, sono le 7.07 e oggi iniziamo la nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui su Cristiano Radio. Buongiorno a tutti, come state? Cosa fate? Dove andate? Questa è la domanda che vi faccio tutte le mattine, a cui potete rispondere alla 3317853555. E allora è una giornata piena di impegni, quella di oggi, meno per me, non so per voi. E noi abbiamo anche tanti ospiti quest'oggi qui, perché sì, e sapete, ve l'ho detto ieri, facciamo un esperimento. Oggi è Good Morning con te, abbiamo qualcuno che ci ascolta la mattina qui da casa o quando va in giro, anzi credo proprio mentre sta per iniziare la propria giornata, che oggi invece viene a iniziare la propria giornata qui con noi, è Federica che sarà qui dopo con noi qui in diretta. Ma abbiamo anche Walter Cherubini, perché oggi è martedì e quindi alle 8.15, 8.30, avremo anche Walter Cherubini. Good Morning Milano, sono informazioni, notizie, ma anche tanta chiacchiera per conoscere un po' meglio la nostra città, per raccontarvi un po', come dico sempre, cosa rende grande la nostra città, ma che poi, insomma, sarà sempre così grande. Non lo so, a volte un po' di dubbi ci vengono, ma cerchiamo comunque di tenere alto il morale, come si dice in questi casi. Vi ricordo sempre Crystal Radio, 96.2 FM Dub Plus, è l'app per iOS e Android, oppure potete vederci anche in diretta video, anche in questo istante, se cambiate canale e andate sul web, potete andare su Milano News e quindi vederci in diretta fino alle 9, qui con voi per raccontarvi Milano e tutto il resto. A fra poco, adesso Francesca Michelin. Francesca Michelin, solite chiacchiere dalle 7 e 12 minuti su Crystal Radio, Good Morning Milano, e vi dicevo, no, esperimento quest'oggi, Good Morning con te e con noi, anzi con voi, c'è Federica. Buongiorno Federica. Buongiorno, buongiorno, ci ritroviamo. Eh sì, ci ritroviamo qui, allora Federica è stata anche la nostra ospite, ma poi quando insomma ho detto, dai ragazzi, cerco compagni per fare un po' di racconto la mattina, tu hai subito risposto, quindi sei stato contento. Sono una mattiniera, poi mi piace. Sei una mattiniera, infatti. Sì, sì, sono una mattiniera, poi mi piace molto fare la rassegna stampa sulle droghe, che sono il mio tema, si può dire droghe in trasmissione. Sì, sì, si può dire tutto quello che vuoi, si può dire tutto quello che vuoi, ma fammi capire, la rassegna stampa come la fai? La fai, cioè tipo a quest'ora l'hai già fatta, oppure per il fatto che sei venuta qui stamattina, l'hai dovuta ritardare? Oggi la ritardiamo un pochino, però tendenzialmente tra le sette e le otto. Ok, fonti principali da cui attingere? Beh, quello dipende, dipende se è a livello italiano, europeo o ovviamente internazionale. Daci qualche consiglio allora, perché insomma ormai il tema del non so dove andare a leggere le notizie è sempre un tema abbastanza grosso. Esatto, stasera, stamattina c'è un bellissimo articolo su Libre, che tratta proprio di questo tema, ovvero della velocità dell'informazione attuale e della non certificazione delle notizie. Oggi tutti possono dire quello che vogliono, no? Un attimo, è un attimo, in più ci mettiamo l'intelligenza artificiale che me la sistema anche bene, me la infiocchetta per bene, faccio un paio di foto che sembrano vere ma non lo sono, metto un papa che... Un paio di video ad effetto. Infatti, metto un papa che schiaccia in un playground, come mi ha messo in certe cose, insomma è un attimo, no? Esattamente, poi il clickbait e tutte le modalità utilizzate per fare un po' di denaro, ma anche giustamente forse l'informazione bisognerebbe tornare a pagarla. Eh, questo è un tema molto bravissimo, questo è un tema molto molto complicato che, insomma, spesso volentieri andiamo a affrontare, nel senso che noi ci lamentiamo, no? Che soprattutto i quotidiani online, le fonti online vivono di click, no? E quindi è ovvio che cerco tutti i modi per farti cliccare di più lì, per farti vedere lo sponsor, per farti vedere il banner. Il problema è che poi dopo però rischio veramente di non dare più la notizia, ma di dare il lamo per farti cliccare e basta. Invece, però, come facciamo a tenerli in piedi, questi giornali? Assolutamente, su questo settimana scorsa, ad esempio, su Repubblica, le prime notizie che si vedevano in home page erano quelle relative a Chiara Ferragni. Sì. Nel frattempo il nostro governo stava facendo dichiarazioni, stava promulgando emendamenti che sono, insomma, molto più importanti della Chiara Ferragni, che se la sistemerà con la magistratura, insomma. Ma bravissima, e in più io credo che siamo ben oltre ormai il lo fanno per distrarci. In realtà ormai è proprio oltre questa cosa, in senso che lo fanno per campare e quindi il dramma è che anzi ci devono dare appunto la Ferragni di turno, perché poi, trappese anche oggi un'altra notizia sulla Ferragni, dopo leggiamo un attimo, perché vabbè, la trovo veramente assurda che si vada a riflettere ormai sui massimi sistemi perché è successa quella cosa della Ferragni. Cioè veramente. Che è molto semplice in realtà. Sì, sì, che infatti che lasciamo fare, nel senso che poi dopo se la vedranno tra di loro, nel senso che vabbè, non so, ogni tanto ci scopriamo tutti i vergini così da un momento all'altro, così, fino al giorno prima noi, poi siamo tutti i vergini così da un giorno con l'altro, che non si capisce bene. Tu da che parte da città vieni? Io arrivo da Precotto. Ah, insomma, ti chiamato un bel giretto. Com'è la situazione in questo momento fuori, in città, tranquilla? No, è tranquilla, molta gente che va a lavorare, i mezzi pieni da sei del mattino, quindi è piacevole. Se invece siete ostinati e volete muovervi in macchina, ci colleghiamo adesso con Luce Verde per sapere invece la situazione del traffico in questo istante. Cesare Cremonini, giovane, stupida... Quanto è polimico quando cita questa canzone, Federica? Ma inutili. Sì, come te. Ah, ok, meno male, lo dici anche tu che hai com'è. Assolutamente, sì. Io ho di polemiche utili ormai, ahimene, vedo. Credo che poi faccia parte delle tecnologie della parola. La polemica di per sé probabilmente... Sì, credo che sia proprio così. Adesso non ho studiato filologia o cose del genere, ma credo che risieda in sé proprio l'inutilità. E a proposito di notizie inutili, parliamo appunto di Chiara Ferragni dell'Ambrogino, dato appunto a Chiara Ferragni e Fedez, che... Dormi tranquilla, Federica, eh. Non sarà revocato. Benissimo. Era proprio la domanda che mi ponevo questa settimana. Ma l'Ambrogino d'Oro a Fedez e a Ferragni verrà revocato? So che non chiudevi occhio per questo. No, non verrà revocato. Tra prendesi, non pensavo fosse solo un pensiero. Invece no, c'è stato proprio un voto in Consiglio Comunale che ha bloccato con 21 voti contrari e 8 favorevoli, eppure 2 astenuti, l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia, che chiedeva appunto la revoca dell'Ambrogino d'Oro ai Ferragni. Vabbè dai, Fratelli d'Italia e Ferragni non devono stare molto simpatici, visto che comunque, al di là del Pandoro, hanno posizioni molto aperte verso i diritti, no? È vero, è vero. Dove non arriva la sinistra arrivano i Ferragni e spensa a te che roba. Com'è che... Comunisti con i Rolex, diceva, no? Sì, esattamente, era proprio suo. Era suo e di J-Yaks. Infatti, quindi insomma, l'aveva vista lunga su quello. No, la cosa che mi fa sorridere di questa notizia è il virgola poi, no? Perché non viene revocato, ma il sindaco dice, ma serve una riflessione sul regolamento. Sul regolamento per l'assegnazione degli Ambrogini. Serviva questa cosa per capirlo, no? Cioè non guardare i nomi degli ultimi Ambrogini dati così un po'... Adesso, dillo tu che non posso dirlo, dati un po' a... A cazzo. Eh sì, non so se si potrebbe dire, ma credo di sì, una cosa del genere, sì. Cioè, veramente, dati così a pioggia un po'... Sappiamo anche... Sì, forse... Anche perché gli Ambrogini li propongono i consiglieri. Sì, sì, sì. Quindi, credo che anche loro magari... A loro servano dei parametri, in un qualche modo, no? Sì, servono un po' di parametri, ma ricordiamo che sono una grande... Che non sono sempre una cosa brutta i parametri e le regole. No, anzi, anzi, anzi. Beh, allora, tutta la colpa se l'è presa l'ex sindaco Albertini, perché è stato lui a fare il regolamento e che disse forse ho sbagliato a dare la scelta al Consiglio Comunale. Sappiamo che il sindaco in realtà ha un diritto quasi a un veto, potrebbe, però la figlia Fira non lo fa mai. No, non lo fa mai, non sta bene. Anche se quest'anno, insomma, Sala si era un po' incavolato dicendo un uso clientelare del... Si erano incazzati tutti, perché poi Sala ogni tanto pesta... Cioè, non posso dire... Cioè, fa delle robe che ti dici, ma riesci a far arrabbiare tutti. Cioè, tutto l'arco costituzionale è venuto a far arrabbiare. Sì, succede questa cosa, Beppe Sala, questa dote incredibile, anche a volte di non occuparsi di quello di cui si dovrebbe occupare e poi fare queste uscite. Credo che la parola clientelare sia un attimino esagerata. Sì, era un po' esagerata. Dopodiché, certamente, no? Soprattutto ogni schieramento politico... Non poteva dire a cazzo, non poteva dirlo. A cazzo non poteva dirlo. Però forse avrebbe reso meglio l'idea. Vendeva meglio l'idea che faceva magari far stare un sorriso anche, non so, a Monguzzi, che invece si era un po' arrabbiato. Avrebbe potuto fare il rene ferretti della situazione, si è dimenticato. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Dicevamo appunto che... Quindi mi confermi che stamattina i mezzi erano belli pieni di gente che andava al lavoro. Sì. Quindi io vorrei capire dove sono questi percentuali di gente che non usa più i mezzi, per cui ATM deve alzare tutti i prezzi, per cui deve, non so... Questa cosa è inesistente. Anzi, aumenti i prezzi e la gente usa meno i mezzi, nel senso che poi uno si organizza con biciclette... Eh sì, eh sì. E il rischio è proprio quello. Biagio Antonaggi, telenovela... E, guarda, telenovela mi sembra la parola giusta, perché è una telenovela lunga e anche assurda quella che spesso l'entire andiamo a raccontare quando parliamo di donne e lavoro. Cioè nel senso che niente la telenovela, perché ogni volta poi chiunque apre la bocca, no? Cioè chiunque deve dire la sua. Assolutamente. La voce che sentite è quella di Federica, che appunto è qui con noi oggi a raccontarci un po' la giornata con questo Good Morning con Te abbiamo voluto fare. No, poi Federica è una... impegnata politicamente, no? Tu sei esponente, si può dire? Sì. Esponente appunto dei radicali milanesi, associazione Enzo Torto, che si chiama questo? Esattamente. Ok. Quindi fai politica, sei una donna e allora le Repubblica e Corriere mi danno l'asset per chiederti un po' questa cosa qui. Nel senso che, allora, la notizia di oggi è questa Francesca Dell'Aquila, consigliera del PD di Monza, che si è dimessa perché non le è stato concesso di lavorare in remoto e quindi dice ho preferito mia figlia alla politica. Stesso tenore appunto anche il titolo di Repubblica che dà appunto la notizia dicendo che ho dovuto scegliere tra la bambina e la politica e quindi ho scelto la mia famiglia, ho scelto la bambina perché non potevo, non posso sembra andare giustamente in consiglio, dice quindi insomma una bambina piccola appena nata da poco. È un tema complicato. Ma allora sicuramente servirebbero insomma delle leggi relative alle tempistiche perché è certamente vero che soprattutto appena un bambino nasce, no, abbia più necessità di avere un contatto con la madre. Partorito a settembre, diciamo. Partorito a settembre, ok, quindi siamo esatto. Quindi servirebbe almeno una tempistica di concessione in particolare magari per alcuni tipi di lavoro. Poi io non so se questa consigliera del PD faccia come lavoro la consigliera comunale oppure abbia un altro lavoro al di fuori della politica perché questo ovviamente cambierebbe molto. Io avrei concesso la possibilità, no, di partecipare ai consigli comunali da remoto anche perché appunto abbiamo avuto il covid eccetera eccetera quindi dopo di che almeno dal mio punto di vista in particolare in politica la presenza è importante e almeno per come sono fatta io cercherei di non rinunciare a nulla. Non è che uno se va a lavoro rinuncia al figlio. Uno lavora anche per il figlio quindi anche su questo insomma bisogna forse avere un confronto un po' più ampio senza avere come spesso capita gli schieramenti, no? Perché poi diventa tutto a schieramento. No, schieramento, non dico sempre, Milan Inter diventa sempre una parola. Esatto. E diventa tra chi vuole i figli e chi non li vuole poi. Si distoglie l'attenzione dal tema principale che non è tanto quello che chiunque è libero di farlo o non farlo. Cioè scegliete voi, fate quello che volete ma non dovrebbe essere faccio o non faccio un figlio perché lavoro o non lavoro. Cioè è questo il tema, no? Non deve essere quella la discriminante e soprattutto come ripeto spesso almeno io sicuramente da persona più di sinistra che di destra ecco non vorrei che il tema della famiglia, dei figli eccetera sia pannaggio solamente di uno schieramento perché reputo questa cosa fondamentale cioè sostanzialmente è ingiusta e molto spesso la sinistra cade in questo tranello perché poi diventa quasi ah ok quelle di destra vogliono avere figli, quelle di sinistra no. Ma ragazzi non è così cioè ma che ragionamento è? Giusto, giusto, giusto. Ed effettivamente appunto è un tema complicato su cui bisognerebbe come dici te superare gli schieramenti e riuscire a parlarne ma sai ma è un tema un po' come quella della sicurezza cioè nel senso che no è un tema della sicurezza un tema ma mi viene in mente anche non so dello stesso Made in Italy che è mai diventato il tema no di cavallo di battaglia di uno schieramento e non si capisce perché gli altri stanno lì a guardare e non dicono no ma scusate guarda Made in Italy va bene per tutti cioè è un interesse nazionale ecco ecco questo è un buon punto. Ci sono delle parole che nazioni ad esempio interesse nazionale, oddio che paura no? Dalla tua parte a volte fa no? Assolutamente sì 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 perché poi diventa quasi come il patriottismo ma io gli direi a Giorgia Meloni guarda che sono patriottica tanto quanto te non è che perché se tu lo dici e sottolini la cosa lo sai di più anche perché poi nei fatti e ad esempio nell'ultima legge di bilancio ma anche in alcuni diciamo rapporti che si hanno con l'Unione Europea tutto sono tranne che patriottici spesso poi i fatti non seguono le parole questo lo sappiamo benissimo e ahimè non solo anche da questo governo comunque assolutamente condivido sorvolo su questo ma 3317853555 grazie per i whatsapp che sono arrivati grazie ad Alberto che ci ha scritto buongiorno a tutti i cristallini e a Fabio che ogni mattina ci tiene compagnia mentre inizia la nuova giornata grazie Alberto questo oggi anche in ottima compagnia di Federica Federica a cui ho fatto scegliere una canzone ho detto vabbè dai vieni in radio non puoi non scegliere una canzone da mandare e hai scelto un cantante che ecco questo è patriottismo proprio c'è un pezzo di taglia di quelli di quelli grossi no? Lucio Dalla Lucio Dalla Qualcosa? Perché Lucio Dalla? Vabbè perché 10 secondi? Lucio Dalla è Un pezzo di cuore Sì un pezzo di cuore Entra in quell'atmosfera italiana ma in particolare emiliana no? Quel sentire lì E allora lo ascoltiamo con Ciao Lucio Dalla con Ciao alle 7.41 minuti Oggi appunto che diamo martedì 16 gennaio Grazie Federica Valcauda per aver scelto questa canzone insomma Ma ci mancherebbe ne avevo scelte anche Sì ne avevi scelte anche altre io poi ho fatto un po' di ho messo il vetro come la Lui ha messo il vetro Sì sì ma mi piace tanto questa qua No grazie a te Quello è il mio tenore comunque da Lucio Dalla Guccini Vabbè insomma Detto niente cioè Se vuoi ti faccio ascoltare Luciano se vuoi Anzi adesso te la metto Adesso mentre ti racconto che cosa ho fatto ieri sera Che so che non te ne frega niente ma voglio raccontare te lo stesso Poi dopo ti faccio ascoltare una canzone e fatti capire appunto il tenore Di quello che dicevi poco fa No a me sono di quella roba lì Dalla, De Grigori Ti ho detto anche Insomma quel mondo lì di musica Esatto Ecco Dopo ascoltiamo Luciano così vedrai invece cosa possiamo sentire oggi Pesa ieri sera invece proprio parlando appunto di Dalla E questi personaggi qui sono stato al teatro Cimboldi Sempre bello andarci Sempre una bella emozione E a sentire Vincenzo Mollica L'arte di non vedere Spettacolo davvero interessante Spettacolo anche lì Monologo Quasi due ore in cui la giornalista Mollica racconta tutta la sua vita Tutte le sue incontri Dove in realtà sai già che tante di quelle cose sono super romanzate Perché ovvio che non c'è Ok Però lo accetti non so come dire Lo accetti da racconti di lui Con Mastroianni e Fellini insieme Cioè quindi capisci cosa ne può venire fuori Ma è un monologo che arriva da un libro O un monologo costruito per Costruito apposta Costruito apposta In realtà è seduto a un tavolino E ti racconta come se tu fossi lì con lui A bere un caffè A bere un caffè Sì 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 è molto interessante Lui sappiamo appunto Vincenzo Mollica ha perso la vista completamente da qualche anno Per una situazione degenerativa che lui conosceva fin dai 37 anni Questa cosa non la sapeva ad esempio Lui fin dai 37 anni si sono accorti che non vedeva da un occhio E che l'altro avrebbe lentamente perso la vista negli anni E quindi tutta la vita lui dice Me la sono goduta però tenendo in memoria tutto quello che vedevo Cioè stimolando la memoria E devo dire che alla maccia L'arte di non vedere Imparare a non vedere Ma vedere lo stesso Lui dice che lui vede tranquillamente tutto quello che è Poi vabbè non vi spoilerò nulla Magari farà anche delle altre serate se non sappiamo In realtà per adesso erano solo due serate Una questa di Roma Roma e poi Milano Ovviamente mille milioni di ospiti O meno di otto in platea C'era Fazio, c'era Madeus A Roma c'era Fiorello Vinicio Capostela ti piace? Sì ti piace Capostela Maginava Maginava C'era anche lui Sta bene Sta bene Sta bene Ha suonato, ha cantato Ha dimenticato le parole di una canzone sua Vabbè Nella norma Infatti mi sembra tutto nella norma Di come uno si immagina un esplorato di Capostela Sì Insomma molto interessante Molto interessante Magari credo che stia girando qualcosa sulla rete E così Tra parentesi ho scoperto Che insomma Mollica è uno di quei personaggi Che tu dici Beh però dai Di qualcosa di cattivo ogni tanto Siamo tutti buoni Siamo tutti buoni Siamo tutti bravi E tutto Ho scoperto invece che Mollica Ha una vena cattivella Per? Perché scrive degli aforismi Ok Oh ci sono giù pesanti stia aforismi Manda a quel paese a destra e sinistra E adesso non mi prendo La responsabilità di citare No la libertà soprattutto di poter citare un maestro come lui Però nel senso No manda a quel paese Partono vangulo e minchia così proprio Ebbè ma uno a un certo punto si deve anche sfogare Nella bontà ci vuole un piccolo angolino di sfogo Brava brava Sì infatti effettivamente Molto mente è quello Insomma Rai uno Quindi deve stare impettito Bello pulito E poi giustamente nel suo intimo invece Possibile questi aforismi E mandare tutti quanti Soprattutto la cosa interessante Un certo tipo di sistema Un certo tipo di società Certo La manda un po' a quel paese Abbiamo parlato di grandi della musica italiana E quindi adesso arriva Sfera e Basta Insieme a Luciano Ti assicuro Che sarà Oh Luciano arriva da Berlino È voluto giù per fare sto pezzo Ti assicuro che dopo questa Non sarei più la stessa Immagino Non so se sarà una cosa positiva o negativa Ma poi ne parleremo dopo E ve lo beccate anche voi Luciano con Sfera e Basta Con Orange Eh io l'avevo promesso Bellissimo Ti avevo promesso che non sareste più la stessa Adesso ascolterò solo Hai sempre fatto una Glock Una Louis Vuitton Musica tedesca Facciamo così Passiamo direttamente Alla parte Alla parte Non so come si dice cattiva In tedesco Germanica Non lo so neanche io Sabade qualcosa È simile all'inglese Da quel punto di vista Comunque Siamo quasi arrivati alla fine Federica Siamo arrivati quasi alla fine Della nostra ora in compagnia Ma Raccontami un po' Che cosa state combinando Appunto con i radicali Con L'associazione Enzo Tortora Allora con l'associazione Enzo Tortora Questo weekend Domenica abbiamo combinato Una manifestazione Davanti alla commemorazione Della figlia Di Alexander Dugin Che è l'ideologo Di Putin La figlia È Mancata C'è stata questa commemorazione Molto filorussa Molto propagandistica Noi ovviamente Insomma Con Putin Non abbiamo Degli ottimi rapporti Noi eravamo lì a fare gli auguri Noi eravamo lì a fare gli auguri Ma a ricordare Che la guerra Che c'è nel cuore Dell'Europa È profondamente ingiusta Ed è una guerra Di invasione Di espansione Entreremo Nelle carceri Sicuramente Nelle prossime settimane A San Vittore E a Como E organizzeremo Grazie all'iniziativa Di Medio Legale Sulla raccolta firme Per la legalizzazione Della cannabis Dei cannabis caffè L'1 Il 2 Il 3 E il 4 febbraio Sono sostanzialmente Un Chiamiamolo Format Perché qua Non abbiamo Il regime di Erdogan Però è quello Che faceva la comunità LGBT In Turchia Nell'appunto Ritrovarsi In dei caffè E parlare Insomma Della loro situazione Poi Questi ritrovi Sono stati appunto Banditi Da Erdogan Noi riproponiamo Il cannabis Caffè Perché Comunque Fortunatamente Noi siamo in un paese Democratico Però parlare di questo tema È sempre complesso In particolare Magari nelle province Ecco Ok Quindi il tema È quello Della legalizzazione Delle droghe leggere Della cannabis Esattamente Poi faremo firmare La proposta di legge Di iniziativa popolare C'è un'iniziativa Di proposta di legge Popolare Che propone Che cosa appunto Che propone La regolamentazione Dei cannabis social club Sul modello tedesco L'autocoltivazione Per consumo personale Di quattro piantine E quindi Insomma Una regolamentazione Che faccia sì Che finalmente Si faccia un passettino In avanti Ovvio Che il modello Almeno per me Migliore È Quello americano Dove anche le aziende Possono Strutturarsi In una maniera Più solida Nella produzione Ecco Questo tema L'abbiamo già Toccato qui Appunto Con il nome di Milano Anche c'era anche Un'altra ospite Insieme a noi Appunto Adesso Mi spugge il nome Raffaella Grazie La segretaria Dell'associazione Torto Saluto Raffaella Grazie Che Giustamente Poi abbiamo Parlato del tema Che Se noi Parlassimo di più Di questo tema Parlassimo di più Del cannabis Ci sarebbe anche Più Prevenzione Da una parte Controllo Dall'altra Ma anche Più di cultura Dietro a questa cosa Che ovviamente Per chi magari Diciamo Dalla mia età in su Ecco Vanno a spinellare Come diceva mia mamma Esatto Vanno a spinellare Ecco così Invece giustamente Raffaella mi diceva È vero Cioè attenzione Non bisogna cadere Nell'idea che Allora tutti liberi Va tutto bene Le cannabis Non fa niente No Cioè ci sono Delle cose Che possono far bene Possono far male Come in tutto Mi viene in mente La cioccolata Ad esempio Certamente Quanto male può fare a me Ad esempio Ma Lo so Dopo decido io Se farmi bene o male Ma lo so E anzi Forse conscio del fatto Di quanto una cosa Può farti bene o Può farti male Sai anche gestirla meglio Assolutamente Poi soprattutto In età adolescenziale Se una cosa è legale Un pochino Lo stigma Lo togli E ti rendi Cioè Togli sia lo stigma Che quella Scusami La volontà Di trasgredire Alla proibizione Quella cosa lì Perché Psicologicamente Questa cosa c'è Soprattutto se sei Insomma In una In adolescenza Dove sei nella fase Diciamo Di sperimentazione Della vita No Tu dici Se io tolgo Il proibito Magari ti viene Meno voglia di farlo Sì magari ti viene Voglia di farlo Magari a vent'anni Che però Hai un'altra consapevolezza A vent'anni Rispetto a quando Ne hai quattordici Quindici Perché è vero Un tema anche quello Quello della giovanità Su cui ormai si inizia Anche perché è vero Che fa male Ora Non è che noi Proponiamo la legalizzazione Diciamo Fumate tutti Perché fa benissimo In particolare Prima Insomma Dei 18-20 anni La nostra Corteccia Celebrale Ha Delle Ripercussioni Molto maggiori Perché sei In fase di Formazione Ed espansione Quindi tu Comunque Inserisci Una sostanza Che è nociva Se lo fai dopo Diciamo che sei Un po' più strutturato Ecco Qui c'era un bellissimo pezzo Di Little Miss Sunshine Dove il nono diceva Io sono vecchio Posso anche drogarmi Tanto ormai sono già Rincoglionito Esatto A quel punto Non posso farci niente Ormai sono andato Esatto Non come la povera Valoni Che ha dovuto smettere Di bere anche l'alcol Per colpa del pacemaker E disperata Disperata Da fazza era disperata Federica Grazie Grazie a te Grazie davvero per la compagnia Good morning con te Good morning con Federica Good morning Insieme a Vasco Rossi L'hai scelto tu E quindi siamo ben contenti Di ascoltare Vasco Rossi Grazie Federica Buona giornata Tektronix Pop up the jam Pop up the jam Scusate 8 e 11 minuti Martedì 16 gennaio Ben ritrovati qui Nella seconda ora Di Good morning Milano Sempre qui su Christian Radio E ricordiamo anche su Milano All News 331 7853555 Grazie a Francesco Che ci scrive Un whatsapp Buongiorno a tutti Buongiorno Fabio Buongiorno e grazie A Federica Ringraziamo ancora Federica Valcauda La nostra Good morning Con te di questa mattina Mi piacerebbe tanto Essere lì con voi Ecco allora Guarda Francesco Non c'è problema Nel senso che Adesso Nei prossimi giorni State Stay tuned Rimanete connessi Perché vi manderemo E vi daremo Tutte le varie coordinate Le coordinate Per poter venire anche voi A fare il Good morning Con te Dalle 7 Alle 8 Noi tutti i mattini Abbiamo la possibilità Di avervi qui In studio Con noi Parlate di più Parlate di meno Potete anche solo guardare Se volete Mi mettete qua E vedete come funziona la radio Vedrete che Lo faremo Vi do l'anticipazione A breve Fra qualche giorno Pubblicheremo Il sito di Good morning Milano E su lì appunto Ci sarà la possibilità Di proporre La propria candidatura Per venire in studio Stare qui con noi Con il Good morning Per te Good morning Milano Che va in onda Tutti i giorni Dalle 7 Alle 9 Qui su Crystal Radio E quindi anzi Voglio sempre ringraziare Crystal Radio Per lo spazio Che ci dà Seguite Crystal Radio Ascoltatela Seguitela sui social Dove c'è tanta Tanta Bella musica Tanta informazione Perché lo sapete Crystal Radio Milano Si sente La musica Passa da noi C'è chi che lo dice Chi diceva La musica passa da noi C'era qualcuno Che diceva Una tv Una radio Ci diceva Questa musica passa da noi Ebbene da noi Passano anche invece Tanti ospiti E oggi infatti Avremo Walter Cherubini Perché parliamo Di periferie Eh sì Le periferie di Milano Che sono sempre Molto raccontate Spesso volentieri male Bistrattate E qui invece Con Walter Vogliamo raccontarle Nella migliore Delle maniere O meglio Vogliamo dare La cronaca Quindi non è Sempre solo Disagio Degrado E tristezza Ma anzi Spesso volentieri L'abbiamo visto In tutti questi anni Insieme a Walter Cherubini Insieme alla consulta Periferia Milano Quanto le periferie di Milano Danno a questa città Che poi Vi ricordo anche questo Tecnicamente L'80% Della città di Milano È periferia E sì Perché fuori Della circonvallazione L'agenzia delle entrate Che è l'unica Che ha deciso Dove inizia Dove finisce la periferia Dove inizia Dove finisce il centro Il centro storico Il semicentro Ecco Ha deciso L'agenzia delle entrate Che dalla circonvallazione Della 90-91 In fuori Quella è periferia Bene È l'80% Della città E anche Per quanto riguarda La popolazione Siamo su quelle Percentuali Siamo la maggior parte Quindi quasi tutti Siamo periferia Ecco Allora smettiamola Di usare il termine Periferia Solo ed esclusivamente Quando c'è qualche Crimine Quando c'è qualche Fatto di cronaca O c'è qualche Disagio Da dover raccontare No La periferia è anche Tanto altro Sono teatri Ad esempio Prima parlavo Di arcimboldi Gli arcimboldi Sono tecnicamente Un teatro Ok in periferia Ma vuol dire Non definireste mai Periferia Un quartiere Come la Bicocca Tra parentesi Ho sempre un po' Bistrattato la Bicocca Perché pensavo fosse Un quartiere Un po' morto Un po' dove non c'è niente Adesso All'annetto Del teatro Che ovviamente Ieri sera Ha fatto entrare Uscire Migliaia di persone Quindi C'era un po' di movimento Ma ho notato Che ci sono Finalmente Perché negli altri anni Non avevo notato Devo dire la verità Un po' di studenti In giro anche la sera Eh sì Perché poi ci sono Un paio di studentati In cui si dorme Scendono giù Vanno alla casa dell'acqua Prendono l'acqua Salono giù Gente in giro In pantofole E pantaloni Improponibili Che sono molto ovviamente Pensate Le menti del futuro Ma è bello Vederli così È bello vedere Come i giovani E gli studenti Spesso e volentieri Anche tantissimi stranieri Che vengono a Milano A studiare Si possono vivere La città In una maniera In cui magari a volte Noi ci dimentichiamo Che debba essere vissuta 8 e 18 minuti Crystal Radio Good morning Milano Allora sapete Good morning Milano Rassegna stampa Adesso facciamo una veloce Rassegna stampa Di alcune notizie Trovate questa mattina Sui vari quotidiani Partiamo da Repubblica Milano Perché Liliana Segre Al binario 21 Dice Quando entro qui Torno a essere Una deportata E poi invece Per la russa La Shoah Fu il male assoluto Ma non risponde Alla domanda Se si sente O meno Antifascista Insomma Illude la risposta Che i cronisti Gli fanno Su questo Su questo tema Sempre da Repubblica Milano C'è un'evoluzione Sulla Questione Della Trans Bruna Fermata Lo scorso 24 maggio E presa A manganellate Trans Presa A manganellate E chiesto il processo Per i cinque agenti Da polizia locale Dicono L'aggredirono Violentamente E scrissero Il falso Nei verbali Per altri due agenti Si sta chiesta Invece l'archivazione Andrà a processo Anche a Trans Bruna Per resistenza A pubblico ufficiale E lesione Insomma Qui tutti A processo Su una situazione Che non sarà Semplice Di rimere Perché davvero Il tema è complicato Il tema Soprattutto Qual è Quello della Sicurezza Deve avere C'è chi Dovrebbe gestire La mia sicurezza Che sia in grado Di riuscire a gestirla Invece Abbiamo sentito Ma anche Detta dagli stessi Sindacati Di polizia Locale E spesso La polizia locale Opera in situazioni Al limite Al limite Sia fisico Che anche A volte mentale E soprattutto Con una frustrazione Addosso Per via di tantissime Vicende Contrattuali E anche di Queste situazioni Di lavoro Che rendono Veramente complicato Fare il proprio lavoro A quello Ci va ad aggiungere Situazioni Comunque incandescenti Che possono esplodere Nei vari quartieri Della città E può Come è successo Appunto Succedere il patatrac E quindi Il tema Secondo me Oltre a un rispetto Maggiore Ovviamente Che viene chiesto A chiunque Non solo Alla polizia locale Ma a chiunque Sia faccia parte Delle istituzioni Delle amministrazioni Della pubblica sicurezza Ci vuole una sensibilità E una Capacità Di gestire Situazioni critiche Sempre più Forte E Cercando di non Sfociare Soprattutto Nella violenza Perché mi viene da dire Sarai capace anch'io A quel punto A dar quattro manganellate Sono capaci tutti A far ragionare A far parlare No Vero è che ci sono situazioni In cui far parlare E far ragionare È molto molto complicato Credo però Che insomma Bisogna Bisogna trovare Sempre Si debba Trovare sempre Il modo migliore Per non arrivare A un atto Quello in fondo Finale della manganellata O comunque dell'atto violento Che davvero è La prova Che si è fallito Nella mediazione Ma soprattutto si è fallito Nel controllo Del territorio E nella gestione Di situazioni Complicate Come quella In questo caso Della Transbruna Che fu Fermata E poi appunto Manganellata Lo scorso 24 maggio Abbiamo già parlato Dell'amborgino d'oro Appunto Che non verrà Revocato A Fedez E Ferragni Vi chiede comunque Sindaco Sala Di rivedere Le modalità Con cui Il consiglio comunale Dà Gli amoggini d'oro E poi Tutte le Sapete che L'angolo green L'angolo green Washing Sostenibilità Come alcuni lo chiamano C'è in tutti i giornali Ogni giorno E infatti Oggi La notizia È che Sono in arrivo 4.000 colonnine In due anni Per una ricarica Lenta e green Delle auto elettriche Progetto Se non sbaglio Appunto di A2A Infatti A2A È un progetto di A2A Le City Plug Potranno Servire fino a 14 auto Contemporaneamente E saranno A ricarica lenta Per Evitare problemi Alla rete Quindi Io non ho un'auto elettrica Non so cosa significa Questa ricarica lenta E soprattutto Quanto devo lasciarla Attaccata quindi Per far Ricaricare La mia Macchina Saranno Ah vedete 7 kilowatt all'ora Invece che i 150 Delle attuali fast Ok Va bene Questo è quello che Dice Renato Mazzoncini Che appunto L'avvizzatore delegato Di A2A Nel presentare Questo progetto Che vedrà 2.400 Colonie di nuova generazione Per quest'anno E altre 1.600 Nel 2025 Suddivise In circa 300 stazioni Complessive Alimentate Esclusivamente Da energie Rinnovabili Beh E A2A Dovrebbe pagare Un po' meno Di corrente Se è roba loro Non so Ah qui poi si è Poi si è appunto Un tema Su cosa Costi Non costi Ah non ci voglio Neanche minimamente Entrare E anzi Per non entrarci Troppo Io Sapete cosa vi dico Che vi vado ad ascoltare Un po' di musica Loro sono Con la pesce E di Martino La loro canzone Una delle ultime uscite Sesso e architettura E potete ascoltarla Adesso Qui Su Crystal Radio Alle 8 e 23 All'interno Di Good Morning Milano 331 7853555 Aspetto i vostri whatsapp E grazie mille anche A Marco Ecco Non vedevo il nome Non vedevo il nome Alla fine Del messaggio Grazie Marco Per il tuo buongiorno Buongiorno anche a te E buon lavoro Con la pesce Di Martino Sesso e architettura Bruce Springsteen Dancing in the Dark 8 e 33 Minuti Ben ritrovati E ben ritrovato Anche a Walter Cherubini Buongiorno Walter Giornata a voi In una giornata Diciamo Col sole Eh sì Eh sì Frescolina Ma col sole Come piace a noi Siamo abbastanza Freschina Vabbè ci sta Siamo anche al 16 di gennaio Se non facesse Freddo adesso Ahimese Avrebbe veramente Un grossissimo problema Non siamo in attesa Delle navicate Del 1985 Non proprio Anzi Questi sono i giorni In cui su Facebook Cominciano a girare Tutte le foto E vi ricordate L'85 Vi guardate l'87 La navicata E il tram Che non passa E le scuole chiuse La città Era bloccata C'erano 70-80 centimetri Di nere Sì sì Infatti Infatti Poi arrivano Anche le foto Del palazzetto Dello sport Di San Siro Venuto giù Dopo La nevicata E queste robe qua Che È un classico A questo punto C'era Un Tirante Un tirante Si è smollato E quindi Irreparabilmente 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 Ricordiamo che Non è mai venuto giù Era semplicemente Rotto Un tirante Un tirante Solo che era stato concepito Che non si poteva giustare E' stato proprio male Quindi Diciamo che da lì Però dopo Trent'anni Sì E' nato Il Diciamo così Il parco Dei capitani Facchetti Maldini E quindi Abbiamo recuperato Dopo trent'anni Dalla nevicata 50.000 Metri quadri Di parco Che è E' anche Profondo Nel senso che Non sono Mezzo metro di terra Ma è proprio profondo E quindi Diciamo che Non tutto è male Quel che finisce male Da questo punto di vista Chissà per quanto C'è ancora quel parco Che ci vorrebbero fare Uno stadio Lì sopra Quel parco Quel parco Tiene Tiene Mi sbilancio Secondo me tiene Io non mi metto A fare le previsioni Dico solamente Che Se la logica Della città È quella di non Consumare suolo È chiaro Che bisogna andare Ovunque Nella logica Delle Dell'utilizzo Delle aree Che sono state Dismesse E nella logica Delle ristrutturazioni Questo è un punto Fermo Anche se Dobbiamo dire Che In Lombardia In generale Ma anche a Milano Il consumo di suolo Continua Questo È il tema Grosso Sì 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 Adesso non mi ricordo Se il tipo Più del 50% Della logistica Lombarda Sta nella provincia Di Milano Cioè quindi Pensa a quanto Della logistica nazionale Sta in Lombardia Infatti E di conseguenza Quella appunto Cioè il 50% Della logistica nazionale Sta in Lombardia E tipo Il 40% Sta tutta Nella provincia Di Milano Che vuol dire Cemento Sì vabbè Parliamo invece Di periferie Dove spesso Comunque si trova La logistica Anche Ormai no Sono quasi Tutti ben fuori Dalla città Dai no Su quello sì Però insomma Periferie Hai tanti temi Ho visto Che si è segnato Tante cose Da cosa vuoi partire? Beh diciamo Che dobbiamo dare Un minimo Di completamento Di quelle che erano Le indennità Sì Di chi svolge Cariche pubbliche Ok Che loro sono cambiate Appunto Da quest'anno Con una legge Tra l'altro Una legge del 2020 2022 Che pian pianino Andata poi Milano Deciso di farlo lentamente Questo incremento Sì sì Non so se fosse Milano O meno Nel senso Che c'è una disposizione Nazionale Appunto Quella del 2022 Che prevedeva Premesso che le indennità Erano quelle del 2000 Sì E quindi nel 2021 Si è iniziato A fare un aggiornamento Un aggiornamento Che dal 2021 Al 2024 Ha sostanzialmente Raddoppiato Quelle che erano Le indennità Di funzione A partire Stiamo parlando In questo caso Di Le città metropolitane In particolare E quindi Milano Come città metropolitane Quindi il sindaco Della città di Milano In quanto Milano In città metropolitana Abbiamo detto Che il nuovo appannaggio È di 13.800 euro Mensili E poi via via Vice sindaco Assessori Presidente del consiglio Comunale Ed anche Per certi aspetti I consiglieri comunali Anche se i consiglieri comunali Avevamo fatto Qualche conto L'altro giorno O qualche aggiornamento In merito Dove I consiglieri comunali Non hanno Un appannaggio mensile Ma hanno Un gettone di presenza Un gettone di presenza Che si aggira attorno A 120 euro lordi Ok E che è Cumulabile Fino a 29 sedute Mensili Che francamente Non sono poche 29 sedute mensili Per un importo Complessivo Di massimo Un tetto massimo Di 3.450 euro C'è stato anche L'aggiornamento Per i municipi Ok I municipi I nove municipi Dove I presidenti di municipio Adesso Andremo a vedere Siccome sono Riparametrati I presidenti In particolare A una percentuale Del compenso Degli assessori E quindi Mi dicono Vedremo A fine gennaio Quanto è il corrispettivo Comunque diciamo Che sono attorno Ai 5.100 euro Al mese Per i presidenti Di municipio Sempre lordi Ricordiamolo Parliamo sempre Di cifre lordi Stiamo parlando Sempre di cifre lordi Dopodiché Ci sono Gli assessori Dei municipi Che percepiranno Una cifra Attorno ai 2.000 euro Sempre lordi Il presidente Del consiglio Di municipio Che prenderà Circa 1.700 euro Mensili Dopodiché Ecco Dobbiamo vedere Qual è la situazione Dei Consiglieri Invece Che hanno Attualmente Un tetto massimo Di gettoni Di presenza Di 11 E con un corrispettivo Di 60 Virgola 43 Euro A gettoni Di presenza Per le sedute In consiglio Di municipio E per La partecipazione Alle relative Commissioni Ecco Questo qui Tanto per avere Un dato Poi magari Successivamente Saremo più precisi E allora Ci fermiamo un attimino Un po' di musica Poi torniamo sempre qui Con Walter Cherubini A parlare Di periferie Magari nel frattempo Sogniamo un po' di California Che dice Walter Il Dick Dick Con Sognando la California Ce lo grigio su Il Dick Dick Sognando la California Invece noi sogniamo Grato Soglio Giusto Walter Perché Ne hanno parlato Tutti i giornali Questa settimana È successo Grato Soglio È successo Questo incendio Se noi andiamo All'etimologia Proprio dei tempi Che furono Almeno quello Che è l'adagio Grato Soglio Un soglio Un soglio accogliente Come la California Come la California Come la California Una soleggiata California Non è successo appunto Al Grato Soglio Non è stato così grato Questa settimana Insomma Diciamo che Il fatto di cronaca È che c'è stato Un Anzi Una serie di materiali Annessi a un cantiere Per la ristrutturazione Di un palazzo Del Grato Soglio Via Saponaro Gli hanno dato fuoco Avevano già cercato Di dargli fuoco Precedentemente Da quello che risulta Poi gli hanno dato fuoco Insomma Sta di fatto Che una quarantina Di famiglie Si sono ritrovate Con Fumo Fiamme Sono state sgomberate E qui Si innesca Tutta una Tutta una rincorsa Tutta una rincorsa Dove Al di là Del fatto specifico Però ci sono Da fare alcune considerazioni Perché altrimenti Noi continuiamo Continuiamo Come anche ha detto Qualcuno Che opera All'interno Del Grato Soglio Ormai Stabilmente Da anni Premiato anche Dagli award Di Milano News Tra le altre cose E Quindi Noi abbiamo Un patrimonio Abitativo Di edilizia Residenziale Pubblica Tra Di proprietà Della regione E del comune Di Milano Di circa 64 mila Appartamenti Di questi Diecimila Appartamenti Non sono utilizzati Questo È Il tema Una situazione Che si è consolidata Negli anni Dove Ciascuno Cerca di mettere Più o meno Positivamente Delle pezze Però Questo qui È l'esito Di quello Che noi Possiamo Dire L'effetto Burocrazia L'effetto Burocrazia Ha portato Quindi tutta una serie Di norme Di regole Senza voler Dare colpe A chissà chi Però Se noi Non ragioniamo In questi termini Dove io mi trovo Ad avere Diecimila appartamenti Della città di Milano Di proprietà pubblica Che non sono utilizzati Quando si dice Ah ma ci sono Gli affitti alti E così via Allora se noi Non andiamo Alle ragioni Che hanno portato Ma chi ci deve andare Per una volta Perché ogni volta Che tu parli con qualcuno Ti dici Eh ma sono le regole E sono le regole Ma chi le fa Ste benedette regole Chi le deve cambiare Ma devo dire una cosa Pre pandemia 2019 L'università cattolica Fece una Due giorni di convegno Sulle periferie E venne invitato Anche il sindaco Di Genova Ok E quindi Case popolari Però quando Così A margine Del convegno Avevamo scambiato Qualche Qualche considerazione Sul tema Delle case popolari Si è come Alzato le mani Ah Nel senso che È un tema Piuttosto Complicato E complesso Anche perché All'interno Ci sono tutta Una serie di realtà Che operano E ciascuno Difende Diciamo così Il proprio fortino La propria isoletta Il risultato È che però Lo tsunami Frega tutti E lo si vede Poi Più marcatamente In determinate situazioni Allora il tema Il tema di fondo A partire Ciascuno Dalle proprie esigenze Dalle proprie sensibilità È però Se non ci si mette Tra virgolette A condividere Quelle che sono Le proprie capacità Le proprie esigenze In una visione comune Premesso che ci sono Diecimila appartamenti Da utilizzare Perché se fosse Una guerra Tra poveri Dove Ci sono tre appartamenti Siamo in dieci Ci scaniamo Per quei tre Ok E invece Non è così No Allora Questo qui È il tema Altrimenti Scoppia il problema Tutti quanti Accorrono Ho in mente Una decina di anni fa Via Padova Sì No Scappa il morto Tutti quanti Accorrono Ma quante associazioni Quante cose Che siamo Sì ma erano lì da anni Che non ci conoscevamo Erano già lì prima Allora Bisogna cambiare metodo E in questo metodo Centrano anche i municipi Ok Questo qui È uno dei punti salienti Perché Il problema È che il territorio Non è governato Nella sua complessità È sempre Si tornano alla fine Cioè il tema Del governare Il territorio Più prossimo A te E poterlo fare Anche meglio Cosa che invece I municipi Spesso non riescono Non possono fare Ma noi possiamo Ricordiamo che i municipi Non hanno Voce in capitolo Sul tema Case popolari Edilizia pubblica Hanno competenza Diciamo così Sull'edilizia privata Ma non Sull'edilizia pubblica Cioè Quello che è proprio Il tema Dell'edilizia pubblica Ma non è che Non ce l'avessero mai avuto Perché Perché il regolamento Del 1977 Prevedeva Che i municipi Avessero Una certa competenza Sull'allora IACP Istituto autonomo Case popolari Che poi è stato Riconvertito E oggi Sono sostanzialmente ALER Per regione Lombardia E MSPA Per il comune Di Milano Avevano la competenza Che è stata Tolta Peraltro Peraltro Quel regolamento Come abbiamo detto Più volte Non è mai Stato applicato Dopodiché È stato sostituito 20 anni dopo Da un nuovo regolamento Appunto Nel 1997 Che non prevedeva Più questa cosa Quindi Chi è che gestisce Il territorio Nella sua complessità Premesso Che ci sono Tante funzioni Tante proprietà Tante cose pubbliche Nessuno E ricordiamo Come giustamente Fai dicendo Adesso Che tutto questo Viene regolamentato Da dei regolamenti Appunto Scusate Del gioco di parole Non è che c'è una legge Che definisce queste cose Quindi ogni comune Potrebbe fare Come vuole Ovviamente Dentro In certi Limiti Dettati della legge Quindi Ci si chiede Come mai Questi regolamenti Poi Vengono fatti Rimangono Carta muta Se non carta straccia E poi Adesso arriviamo Al municipi Quindi con la nuova legge Dopo la legge del Rio Con l'istituzione Anche della città metropolitana Che sono molto legati Come temi Con i municipi Della città metropolitana Che sono insomma Con le due istituzioni Che dovrebbero Allargare gli orizzonti E invece Quell'altro Localizzare Le decisioni No? Allora In verità Non sono legati Ok Perché Perché i municipi Sono stati introdotti In virtù Della legge del Rio Che istituiva Le città metropolitane E quindi anche L'elezione Del sindaco Della città metropolitana Quindi anche Le città capoluogo Dovevano Riarticolarsi In una maniera diversa Per quanto riguarda Milano Ci fu Tra virgolette L'escamotage Erano C'erano i consigli di zona Sì Quanti erano a Milano Nove Bene Adesso li chiamiamo Municipi Facciamo un nuovo regolamento Quanti sono Sono sempre nove Ci furono anche Delle iniziative Per Risistemare un po' I confini Tra le diverse zone Ma rimase tutto appiccicato Perché Tutto come era prima Perché Le varie zone Cercarono di conservare Il proprio territorio Quindi non venne Modificato nulla Vende fatto un regolamento Nel 2016 Siamo nel 2024 E diciamo che attualmente Siccome non c'è due Senza tre Sta facendo Il percorso Dei vecchi regolamenti In applicato Il 77 per 20 anni Il 97 per 19 anni Cosa divertente Cosa divertente È che poi Senti i municipi Si lamentano Senti i consiglieri Da città metropolitana Si lamentano Quindi questi regolamenti Non si capisce Chi li faccia Se poi dopo Chi deve applicare Si lamenta Dell'applicazione Di questi regolamenti Walter Siamo arrivati C'è la fine Hai visto oggi È andato super veloce Ma insomma Tanti Un tema Velocissimo Un minuto Un minuto C'è un tema Proprio di impostazione Organizzativa L'abbiamo visto Con la sanità Milano È un polo D'eccellenza Della sanità Vengono dal resto Dell'Italia A Milano Per farsi curare Dopodiché Con la pandemia Abbiamo visto Che però C'è un problema Di gestione Del territorio Di sanità Sul territorio Ecco Il problema Di Milano È esattamente così Che continua Ad essere attrattiva Ma non c'è La gestione Del territorio Se non si affronta Questo nodo E con i municipi Che esistono già Perché non c'è Niente da inventare Noi continueremo A riperpetuare I problemi Chiarissimo Walter Allora Grazie mille davvero Anche per oggi Noi ci vediamo Settimana prossima Sempre con la consulta Periferia Milano Per appunto Capire al meglio Quello che Si potrebbe fare Magari a volte Non viene fatto O comunque Invece anche Quello che invece Funziona Le nostre periferie Come ad esempio Il grande fervore Culturale Che c'è sempre Che Walter Ci ricorda Giustamente Che esiste In tutta la nostra Periferia In tutte le periferie Di Milano A fra poco Per la chiusura Grazie Walter A martedì prossimo Ciao